Sono Nereo Sciutto di Web Ranking, ci occupiamo di marketing online, principalmente motori di ricerca. Oggi siamo qua per declinare il discorso della promozione sui motori di ricerca, principalmente la parte di ottimizzazione per i motori, la parte di SEO, all'interno delle piattaforme software alla base dei siti internet, sia di e-commerce che di commercio elettronico, quindi, che i CMS editoriali delle grandi aziende. Il nostro scopo è dimostrare che all'interno, che è l'argomento del mio speech di oggi, lo scopo è quello di dimostrare che le esigenze tecnologiche di costruzione della piattaforma e le esigenze di marketing dovrebbero andare insieme, perché non ha senso oggi fare un sito e limitarsi a pubblicarlo online, ha senso trovare degli strumenti per riuscire a promuoverlo e fare in modo che i suoi obiettivi riescono ad essere raggiunti, che non sono mai e neanche solo quelli di posizionarsi all'interno dei motori, ma sono quelli di trovare dei nuovi contatti, dei nuovi clienti, grazie alle strategie di marketing online, Google in primis. Per cui cercheremo di mettere insieme, visto che siamo a SMAU, sia gli aspetti tecnologici, su cui siamo molto forti, sia gli aspetti di promozione, perché è importante ottenere una quadratura tra il sito e quello che viene fatto dopo, con possibilità eventualmente, consigliatissima, di migliorare la misurazione di quello che viene fatto, perché il sito internet, e questa è la summa del tutto, sia visto come un investimento e non come un costo, quindi non è una cosa da fare come le brochure prima di una fiera, ma deve essere uno strumento che tu devi mettere in piedi per riuscire a ottenere dei risultati e quindi misurare quanto ha reso e quindi qual è il ROI del tuo investimento online.